Interacciai, leader nel servizio e nella distribuzione degli acciai speciali. Interacciai, forte di un'esperienza maturata sui mercati in oltre 30 anni di attività, opera nel campo degli acciai speciali, occupandosi di una distribuzione capillare della completa gamma dei prodotti su tutto il territorio. La struttura organizzativa e la dislocazione strategica delle 13 filiali italiane permettono a Interacciai di soddisfare le aspettative della clientela più esigente, supportando l'utilizzatore mediante know-how e logistica, con un servizio aderente alla rapida evoluzione di una domanda sempre più articolata in un mix di prodotto e servizio.